Buongiorno, buongiorno dalla redazione di TV6, buongiorno con la nostra rassegna stampa in questo giovedì 12 luglio 2018, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali, ma anche a rivedere diversi servizi realizzati ieri dal TG6. Subito andiamo sui quotidiani locali, le prime pagine partendo dalle quattro edizioni del centro. Qui siamo su quella di Pescara, Ludovico, organi donati a sei malati. Questa è l'apertura dell'edizione pescarese, oggi l'addio al 23enne di Collecorvino, morto dieci giorni dopo l'incidente. Poi sotto la testata, ecco le novità sul divorzio, l'assegno cambia, non è solo tenore di vita. E poi a centropagina la fotonotizia con uno dei tanti eventi di quest'estate, con Francesco Motta che incanta il pubblico e sabato ci sarà la notte bianca, ieri lo spettacolo di Motta all'ex cofa di Pescara. Per la cronaca, il caso Buoiocchi, non uccise la madre, il giudice lo riabilita. E poi panico a Montesilvano, lite sul pullman e i trans usano lo spray urticante. Primo caso in Abruzzo a Pescara, due papà e una figlia, la storia di Iari e Alessandro. E poi in taglio medio l'Abruzzo da scoprire con un click tutto sulle vacanze in regione nel nuovo sito web presentato dall'assessore D'Ignazio. A piedipagina ieri il verdetto del mondiale con la seconda semifinale che ha visto prevalere la Croazia ai supplementari sull'Inghilterra. Lacrime inglesi, Croazia in finale, gara risolta ai supplementari. Domenica sfida con la Francia, finale inedita. Francia-Croazia. E poi la nuova Juve, Allegri sicuro con Ronaldo, la Champions è più vicina per la Serie B. Il Pescara vuole chiudere per Eguelfi dell'Atalanta. Si rafforzerebbe questo asse dunque con il club orobico. Ci sono in ballo altri giocatori come i vari Melegoni, Capone e Monachello. L'edizione di Chieti del centro, anche in questo caso la cronaca, muore a 17 anni dopo lo schianto. Lanciano moto contro auto, studente finisce sulla recinzione di una casa. E poi la fotonotizia con il cammino di Sant'Omaso. Ortona, capitale dei pellegrinaggi, arrivano 420 ragazzi. Per la politica, Chieti di primio ferma i ribelli, avanti con i tagli. Sempre a Chieti, Università dell'Adriatico, il nome divide. A Lanciano, meno acqua nel Frentano per aiutare Vasto. E poi ancora in basso, leggiamo per conto riguardo il calcio a 5. Barbarossa, il patron dell'Acqua e Sapone che ha vinto l'ultimo scudetto del calcio a 5. Le sue parole, Acqua e Sapone brillerà anche in Europa. L'edizione terramana del centro, l'apertura, teatro romano, via la gabbia. Teramo, il sindaco, chiede ai progettisti una soluzione senza copertura. E poi la fotonotizia, conclusa l'edizione più travagliata del torneo, Coppa Interamia, il patron è drastico, va cambiata, il patron ovviamente Pierluigi Montauti. E poi i richiami di cronaca, operato al cuore gravissimo, l'ex presidente Catarra, ex presidente della provincia di Teramo ed ex sindaco di Notalesco, Walter Catarra. Roseto, Arena 4 Palme a pezzi, il torneo si fa altrove, a Giulianova la De Amicis sarà riutilizzata come municipio. E poi in basso per lo sport, calcio di serie C, Teramo, ecco di Renzo, mi manda la padula. L'edizione aquilana del centro, commercianti multati in centro, all'Aquila protesta degli esercenti, niente parcheggi ma vigili scatenati. La fotonotizia apre il mercato con i prodotti a chilometro zero, all'Aquila, campagna amica, ecco i mattoni per la rinascita. Sempre all'Aquila, il liceo trasloca la preside, sede a Collemaggio, ad Avezzano, cacciata la donna che adesca e deruba i nonni, e a Sulmona, giostra e curve di Valeria Marini, lo spot che divide, c'è questa locandina che divide appunto, una locandina di Valeria Marini che pubblicizza l'evento della giostra a Sulmona, e per il calcio di serie D, Ius, il presidente da pochi giorni dell'Aquila Calcio, iscrivo l'Aquila e mi faccio da parte. Tutto questo è stato scritto in una nota inviata ieri dallo stesso Gianluca Ius. Vediamo ora il messaggero Abruzzo, con il titolo d'apertura, Ateneo, scontro sul nome, non piace la nuova denominazione, Università dell'Adriatico Chieti Pescara, le critiche sbilanciate verso la costa, di primio, il sindaco di Chieti parla di inutili battaglie di campanile. Sotto la testata, quel Abruzzo da scoprire, quel triangolo del turismo tra Silvi, Pineto, Roseto e altri. Siamo dunque nella zona delle terre del Cerrano. A Sulmona, ecco qui ancora, giostra cavaleresca, non piace la sexy testimonial Valeria Marini. Per lo sport, Pescara, Pilon vede positivo, l'Aquila, Ius si fa da parte, il Delfino è in pressing per l'acquisto dell'attaccante Monachello. La crisi societaria di Rosso e Blu Continua adesso tocca ai costruttori. Di spalla vediamo la stretta di mano tra il capo dello Stato, Mattarella e Monsignor Petrocchi. Petrocchi-Mattarella, incontro familiare, ricevuto al Quirinale il neocardinale, si è parlato anche del tema dei migranti. E poi ancora un paio di richiami a centropagina, la Fantauzzi pestata in cella in 5 a processo. Donati gli organi, Ludovico ridà la vita a 6 persone. E quindi a centropagina, la fotonotizia, tutto pronto per la notte bianca, a Pescara, sabato la pacifica invasione, poi a L'Aquila, raccoglieva fiori di genepi nel parco, ed è stato denunciato. Sempre all'Aquila, scuole la metà, non sono sicure. E andiamo ora a chiudere questa fase con la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Niente copertura sul teatro romano. Il sindaco D'Alberto incontra il progettista e chiarisce l'idea già espressa dal Consiglio Comunale. Sotto la testata, regole non rispettate, nessun accesso per i disabili, anche le ruspe in spiaggia. Parco Marino, che disastro. San Nicolò, il vicino salva i genitori dal figlio drogato. Invece a Isola del Gran Sasso, via libera anche alla nuova scuola media. La fotonotizia al centro, Coppa Interamnia, il patron fa il bilancio della 46esima edizione. Anche Montauti ammette, alla Coppa serve un cambiamento. e poi ancora sotto la fotonotizia, ladri in azione al deposito comunale, Martinsicuro rubato un furgone con attrezzi per migliaia di euro. E quindi dal calciomercato un doppio squillo per il terramo, presi la punta di Renzo e il mediano Zenuni. Lasciamo la città, approdiamo ora alla parentesi legata ai quotidiani nazionali. Nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera. Migranti, polizia a bordo. Questo è il titolo d'apertura. Indagini sulla nave Diciotti e sul rimorchiatore Salvini. I violenti in cella. Il ministro vede sehofer ricollocamenti in Italia solo se ci sarà una redistribuzione. E poi sotto la testata mondiali di calcio, Croazia la prima volta in finale con la Francia. C'è poi, per quanto riguarda la cronaca estera, Trump attacca Merkel, sfida l'Europa, raddoppiate subito le spese militari. E poi ancora la fotonotizia, un grosso sospiro di sollievo dopo il salvataggio dei ragazzi in Thailandia, i piccoli calciatori e l'allenatore in quarantena, Titan, gli amici, i sorrisi. Vi amiamo tutti. La prima pagina di Repubblica, Migranti e lavoro, governo diviso. Salvini, la nave della Capitaneria, proderà solo se arrestano gli aggressori. Aggiungono dal Movimento 5 Stelle, basta con gli slogan, decreto dignità nel caos, coperture trovate last minute, tensioni su voucher e reddito di cittadinanza. Andiamo sotto la testata, c'è questa foto, Dazi, spese militari, gas, Trump, sfida Merkel e l'Unione Europea. E poi a piedi pagina, il reportage nel cantiere della M4, il primo viaggio nel tunnel che unisce Linate e Milano. Il fatto quotidiano, CSM, Davigo Superstar, cambia tutto, anche nella magistratura, sconfitte le vecchie correnti. E poi ancora, Migranti, graduatoria per i salvataggi, lavoro, incentivi a chi assume. Intervista a Di Maio, su Lega e DL Dignità. Andiamo a centro pagina, Follie all'italiana, scrive il fatto quotidiano, l'Inps e il Miur, non si parlano e i prof perdono la pensione. Una conta l'anno commerciale, uno conta l'anno commerciale, e l'altro invece quello solare. E poi ancora la protesta operaia, non paghiamo CR7, sciopero alla Fiat di Melfi. Siamo ora sul mattino, Nato, Trump contro tutti, Merkel dipende da Putin, gli alleati raddoppino le spese, potenziato Lab di Napoli, migranti in rivolta, polizia a bordo della nave italiana, Salvini sbarchino in manette. Di spalla, rifiuti la mappa dei nuovi impianti, in campagna qui, 15 comuni individuati dalla regione, chi entra e chi esce. Poi, ieri conferenza a Di Maro, chiaramente, grande spazio al Napoli, sul mattino, Di Maro, sede del ritiro del Napoli, affamati, ieri, hanno parlato il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il tecnico, neotecnico Ancelotti, che dice, Ronaldo alla Juve, non gioco per il secondo posto, a marzo lotteremo su tre fronti. Poi ancora, il messaggero, che apre così, la polizia, sulla nave dei migranti, agenti sulla 18, oggi a Trapani, per chiarire se c'è stata rivolta a bordo, Salvini, li arrestino, tensione nel governo, asse tra il Viminale e Sehofer, ricollocamenti, solo se c'è redistribuzione. E poi, sotto la testata, Russia 2018, Croazia nella storia, la prima finale, decide Mangiukic, piange l'Inghilterra, e poi, effetto Ronaldo, gli operai FCA, scioperano a Ruba, le sue maglie, della Juve. E poi, ancora, torniamo a centro pagina, intanto con la foto, notizia, Nato, Trump contro la Merkel, gli alleati raddoppino le spese, il presidente USA, Berlino, prigioniera della Russia, per l'energia. E poi, di spalla, il decreto di Maio sul lavoro, che è voucher per turismo e agricoltura, e la Lega ringrazia, i 5 Stelle, con il sì ai vitalizi. E poi, divorzio, il contributo dell'ex coniuge decisivo, per calcolare l'assegno, la Cassazione, valutare caso per caso, non è sufficiente, il criterio del tenore di vita. E ora siamo sul manifesto, che apre con pacco atlantico, al vertice Nato, Trump attacca i nuovi nemici, Germania e paesi europei alleati, spendono troppo poco nel riarmo, e devono pagare il doppio, per la difesa e per i rischi disastrosi, delle sue guerre commerciali, il presidente USA pretende il 4% del PIL, per l'Italia, che già sborsa 70 milioni di euro al giorno, significherebbe 200 milioni di euro al giorno. E poi, in basso, per la Diciotti, un'altra notte in mare, dalla procura di Trapani, 20 avvisi di garanzia per medici, senza frontiere, e Save the Children. Proseguiamo, e siamo su libero, legittima difesa, pronta alla legge, finalmente Forza Italia si sveglia, Brava Gelmini ha presentato alla Camera un progetto in base, al quale il cittadino ha diritto di proteggersi dalle aggressioni, a domicilio di ladri e rapinatori. Alleluia, Movimento 5 Stelle si adegua, per noi questa è una priorità. A centro pagina, Davigo, il manettaro, al vertice dei giudici, eletto al Consiglio Superiore della Magistratura. E poi, in taglio medio, sbarcate in ceppi, i profughi ribelli, Salvini non vuole arretrare linea dura con chi ha sequestrato la nostra nave. Ora il sole 24 ore, lavoro, torna il voucher per turismo e agricoltura, boccia di Confindustria, non confondiamoli con i contratti a termine, è urgente ridurre il cuneo, l'apertura di Di Maio allo studio incentivi per la stabilizzazione dei contratti. E poi, un mezzo volto del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, NATO, gli USA sollecitano il raddoppio della spesa, borse giù, con l'annuncio di altri dazi contro la Cina. e poi Di Maio gira il dossier Ilva a Cantone, il governo chiede all'ANAC di indagare sulla gara vinta da Arcelor Mittal. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina della Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, dubbi sulla versione dei marinai, la rivolta dei migranti sulla nave, un espediente per riferirarli all'Italia, un dirigente della Vostas, nessuna insurrezione, ma allora avrebbero dovuto consegnarli ai libici. La verità è che l'immigrazione è fuori controllo, come dimostra la storia dello stupratore gambiano di Roma. Il saluto di Trump alla Merkel, serva della Russia. Ecco qui la foto notizia con i due leader dei due paesi a confronto e poi taglio medio Di Maio si convince, tolano i voucher, passa la linea della Lega, saranno usati per gli stagionali in agricoltura e nel turismo, ma niente abusi. E ora la stampa Nato Trump all'Europa, versate il 4% del PIL e apre la sfida del gas di USA, no alla rotta russo-tedesca nel Baltico, sì a quella Caucaso Italia, vertice a Bruxelles. Il presidente americano chiede più soldi per la difesa. e poi la foto notizia dedicata al mondiale. E Francia-Croazia ai mondiali di Russia una finale mai vista. Il tempo che apre così detto e non fatto. Le promesse della Raggi, Roma fa schifo, mai stata così sporca e inefficiente. La rivoluzione annunciata due anni fa su 11 punti non ne ha rispettato nessuno. e poi il tempo di Oscio con il viso di Ilona Staller una delle vittime tra virgolette della futura abolizione dei vitalizi. Metocchera ricomincia a fare i numeri Corboa. E poi ecco qui ex Vipe deputati senza vitalizi. Poi i rilievi al decreto dignità povero Di Maio i tecnici di Conte lo fanno a pezzi. E poi ancora il giornale che apre così con la battaglia per la sicurezza subito la legittima difesa la sfida di Forza Italia presentata la legge Di Maio cede anche sui voucher e poi sotto la testata divorzio mogli mantenute per legge sentenza che cambia tutto più diritti a chi si immola per la famiglia la Cassazione rivoluziona gli assegni e poi il discorso in burocratese di Bonisoli il ministro della cultura che umilia la lingua italiana proseguiamo e andiamo sulla prossima testata che è l'avvenire e con questa prima pagina chiudiamo questa parentesi l'Italia dei caporali sarebbero 400.000 lavoratori irregolari e 100.000 le vittime del sistema di reclutamento in nero l'80% è straniero donne 4 su 10 braccianti nei campi senza limiti da nord a sud una piega nascosta e una buona legge a rischio lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo sui locali siamo subito a pagina 2 del centro marketing territoriale scopri l'Abruzzo con un click il portale fa da guida al turista l'assessore di ignazio l'obiettivo è quello di programmare vacanze viaggi e partecipazioni ad eventi le informazioni sulle bellezze della regione sono reperibili su dispositivi come smartphone e tablet poi ancora le parole di francesco di filippo non si tratta del restyling del sito ma della realizzazione di un ecosistema digitale di promozione accoglienza da l'IFAico Marco Virno e al passo con gli standard di promozione e di comunicazione di una destinazione turistica moderna e allora andiamo a vedere il servizio realizzato dal Tg6 cambia sia nella forma che nella sostanza è il nuovo portale turismo della regione Abruzzo già online e operativo più contenuti più informazioni e una migliore organizzazione della presentazione dell'offerta turistica regionale mare montagna arte cultura ed enogastronomia in vetrina per cercare di migliorare l'attrattività del territorio il nuovo portale web è un tassello del processo di re-ingegnerizzazione dell'ecosistema digitale di promozione ed accoglienza turistica tra le novità lo scambio di dati e di flusso di informazioni provenienti dal DMS il Destination Management System e la piattaforma di prenotazione e delle esperienze da vivere durante la propria vacanza beh sì cioè quello che qualcuno ha lanciato qualche giorno fa sulla stampa lo schipasse no in realtà è già nel sito nel senso che tramite il sito dell'Abruzzo si può prenotare tutto cioè dalla Germania dico Germania perché noi abbiamo come prima nazione di turismo che viene dall'estero Germania e uno può prenotare tutta la sua vacanza dall'albergo al ristorante al museo la montagna se vuole andare a sciare quindi tramite il sito abbiamo creato praticamente la possibilità di gestione di tutta una vacanza senza dover poi preoccuparsi di file di altre cose e penso che sia un buon servizio dato al turista pagina Abruzzo piccoli ospedali la camera boccia gli emendamenti il PD parla di censura e di presa in giro delle comunità torto dei 5 Stelle materie non attinenti all'argomento trattato e poi ancora il caso delle indennità alle guardie mediche ecco perché non si possono pagare lo spiega il direttore generale dell'ASL di Chieti Pasquale Flacco e poi ancora testimoni di Geova congressi su fede e coraggio gli appuntamenti a Roma e Rivini prevista una numerosa rappresentanza abruzzese siamo alle pagine della cronaca di Pescara sabato la notte bianca riviere chiuse e parcheggi gratis la città si blinda per la mega festa contro la rovescia per il grande evento concerti cibo e teatro su 9 chilometri di costa si comincia con gli spettacoli itineranti all'eventi che si finisce alle 3 del mattino con il regge di Alborosie ci saranno gli spettacoli tra gli altri di Loredana Bertè la cantante si esibirà alle 22.30 alla Madonnina l'una invece toccherà a Irene Grandi attesa la nave di Cascella e poi l'attore Edoardo Leo che reciterà alle 23 dopo l'esibizione di Vincenzo Rivieri insieme proporranno un duo comico e poi ancora siamo alla pagina successiva con la proposta che divide negozi aperti la sera clienti entusiasti commercianti scettici fa discutere l'idea lanciata da Confcommercio per l'estate c'è chi ne approfitterebbe e chi pensa ai turni del personale andiamo avanti e siamo sulla sempre sulle pagine di Pescara Fontanelle risorge 2 milioni e mezzo per 202 alloggi Ater al via i lavori di riqualificazione in via caduti per servizio l'annuncio di Ater Regione e Comune 135 giorni per finire vediamo il servizio del TG6 sono 202 gli alloggi popolari di Fontanelle di proprietà dell'Ater di Pescara sui quali partiranno i lavori di riqualificazione finanziati da Regione Abruzzo l'intervento programmato nel capoluogo Adriatico ammonta 2 milioni e 465 mila euro e interessa circa 600 inquilini di via caduti per servizio a partire da oggi giorno della consegna dei lavori delle ditte scattano i 135 giorni di tempo per ultimare i lavori divisi tra tre aziende una abruzzese e due campane la Todima di L'Aquila la TechSped di Giuliano e la Scalone di Santa Maria Capo Avetere i lavori erano stati annunciati già a marzo quando il presidente D'Alfonso in un sopralluogo assieme ai residenti di Fontanelle aveva assicurato la partenza dei cantieri entro 30 giorni ce ne sono voluti un po' di più circa 120 ma dice il segretario di presidenza della Regione Enzo Del Vecchio è stata mantenuta la parola data superando alcune traversi e burocratiche c'è stato un difetto di comunicazione perché quando siete andati a fare il sopralluogo a marzo avete detto entro 30 giorni forse quello ha fatto un po' arrabbiare i residenti beh insomma la burocrazia è quella che è noi a marzo abbiamo consegnato e fatto l'aggiudicazione provvisoria così come prevede il codice dei contratti all'aggiudicazione provvisoria ha fatto seguito l'aggiudicazione definitiva dopo 35 giorni poi abbiamo avuto un breve impasse di natura finanziaria nel senso che si è registrata la necessità di fare una variazione di bilancio c'è una riscrizione dei fondi e quindi questo ha comportato qualche giorno in più ma l'impegno nel momento stesso in cui l'atto deliberativo è stato assunto dalla regione Abruzzo era chiara ai lavori nel quartiere Fontanelle di Pescara che sarà oggetto anche di interventi messi in campo dal comune nel progetto complessivo di riqualificazione delle periferie se ne aggiungeranno altri per un totale complessivo di 5 milioni di euro oggi la disponibilità economica come ho detto prima dei 5 milioni non è più nella pancia della regione ma è nella pancia dell'Ater che può già avviare le gare sia per via Salaravecchia sia per le case ex Gescal possiamo andare avanti sempre con le pagine di Pescara non uccise la madre assolto il giudice riabilita Boiocchi la tragedia di Natale 2016 l'uomo fu accusato di aver praticato 15 iniezioni di eparina all'anziana ma per il GUP il fatto non sussiste l'emorragia non fu causata dal sovradosaggio del medicinale avanti ancora la storia dei primi due papà abruzzesi Iari e Alessandro dopo il sì una figlia uno tecnico di radiologia all'ospedale l'altro parrucchiere si sono conosciuti a Torre dei Passeri abitano a Spoltore Poi ancora a Montesilvano inaugurato a Montesilvano il primo centro di raccolta per rifiuti più tardi vedremo anche il servizio sempre a Montesilvano caos su lungomare lite sul bus spunta lo spray urticante dopo aver discusso con alcuni giovani due trans si difendono spruzzando il prodotto intervengono ambulanze e carabinieri e poi in taglio medio festa della Montesilvanesità un successo più di 12.000 persone hanno partecipato alla tre giorni di musica giochi sfilate e premiazioni avanti ancora siamo a Città Sant'Angelo dove torna dall'Etna al Gran Sasso nove giorni di arte e folklore da sabato a Città Sant'Angelo al via la festa nata dal gemellaggio con Nicolosi carretti siciliani cucina e carnevale di Ruc avanti ancora e siamo a Francavilla Sant'Alfonso la rinascita di una piazza tre anni di cantieri ma con la pedonalizzazione la zona è diventata un gioiello da scoprire i commercianti non si torna indietro qui vediamo alcuni momenti dei lavori la realizzazione del nuovo manto delle piastrelle la piastellatura appunto della piazza avanti siamo in zona vestina donati gli organi del giovane Ludovico il 23enne di Colle Corvino è morto dopo uno schianto con lo scooter in paese la camera ardente oggi pomeriggio i funerali siamo alle pagine di Chieti tragedia a Lanciano muore a 17 anni dopo lo schianto in moto giovane studente viene sbalzato sulla recensione di una casa e poi ricade nel cortile subito soccorso spira in ospedale e poi in basso a Lanciano del Rio l'ex ministro dice il PD deve ripartire da facce nuove l'ex ministro in piazza vanno bloccate le aziende che delocalizzano senza motivo come è successo qui ancora le pagine di Chieti e provincia il caso del nuovo nome dato all'università l'Ateneo Adriatico divide la città un inchino a Pescara Chieti è polemica sul nuovo nome dell'università d'annunzio gli ex alunni del Vico uno schiaffo Marzoli ora il CDA dica no e poi c'è scontro in seno al comune di Chieti di primio ferma i ribelli vado avanti con i tagli poi ancora Ortona è la capitale dei pellegrinaggi in arrivo 420 ragazzi la città si prepara ad accogliere giovani di Bergamo e Milano sarà allestito un campo base e poi la lunga marcia fino a Roma pagina di Teramo con il progetto di recupero teatro romano senza copertura si può da Alberto detta la linea ai progettisti ripartire dalla soluzione approvata in consiglio comunale che non prevede gabbie e poi ancora in basso arena quattro palme degradata il trofeo emigra rosetto erbacce vetri rotti sugli spalti baby campioni del basket mini stars spostati in altre sedi e poi ancora proseguiamo e siamo in provincia di Teramo a Silvi in particolare dove si è tenuto il primo consiglio comunale dell'era del neosindaco Scordella niente diretta video scontro in consiglio dunque un primo consiglio subito con tensione Silvi opposizione all'attacco perché non c'è streaming gamba corta presidente il grillino Blasiotti rinuncia al ruolo di vice e poi in taglio medio Pineto più controlli antiabusivi il comune assumerà due vigili per aumentare la presenza in Pineta e in spiaggia pagine dell'Aquila la rinascita difficile niente parcheggi ma raffica di multe piazza palazzo protesta dei commercianti tornati in centro rimpallo tra gli uffici per il rilascio dei pass così non va poi ancora la mancanza di posti auto va ad aggiungersi ai problemi legati alla presenza dei cantieri al continuo passaggio dei mezzi pesanti poi ancora per la politica aquilana la resta dei conti nel PD che per dei pezzi si riunisce oggi la direzione al centro del dibattito l'uscita dal partito di tre dei cinque consiglieri comunali siamo infine all'ultima pagina appunto aquilana della cronaca aquilana e in particolare siamo a Sulmona dove quella di ieri è stata una giornata di caos lavori nel centro storico e il traffico impazzisce cantiere in via d'Eramo auto intrappolate dopo l'entrata in vigore della ZTL gli automobilisti dicono quanta confusione in municipio rimpallo di responsabilità e poi in basso sempre a Sulmona Valeria Marini e il manifesto OSEE che spacca la città eccolo qui il poster promuove la giostra il presidente strumentalizzazione e l'assessore dice offensivo ci fermiamo con la prima parte di mattino 6 diamo lo spazio ora alle previsioni del tempo poi la pubblicità e poi rientriamo con la seconda parte di nuovo buongiorno riprendiamo con il messaggero Abruzzo subito una pagina dedicata al turismo itinerari d'estate quel triangolo del turismo tra Silvi Pineto Roseto ed Atri sabato la notte bianca dello sport delle discipline paralimpiche dal 3 al 5 agosto in piazza Duchi d'Acqua Viva il Blues Festival e poi ancora pinetnie moderne tra i festival più apprezzati e longevi della costa quest'anno ospiterà anche la banda Bardot e poi lo abbiamo visto in precedenza il nuovo portale della regione per prenotare le vacanze siamo sulle pagine di Pescara a proposito di eventi e di turismo notte bianca la città accende l'estate tutto pronto per la pacifica invasione di sabato sera la Oredana Bertè Irene Grandi Edoardo Leo tra i big le due riviere teatro dell'evento club della stagione tra musica teatro sport e street food bus e sosta gratis nessuno come noi ha investito tanto su intrattenimento e turismo aspettiamo 250.000 persone dice l'assessore comunale Cuzzi e poi ancora il ricco programma consultabile sul web ma ci saranno anche le iniziative dei privati e dei balneatori intanto sfera e basta sul palco dell'ex cofa dopo l'apertura di ieri con Motta il rapper in tour presenta stasera il suo nuovo disco Rockstar avanti ancora passiamo in questo caso alla cronaca ma sempre a Pescara pestaggio in carcere la Fantauzzi in 5A processo il 18 settembre 2017 la spedizione punitiva di donne rom calci e pugni e la sorella del killer di Antonio bevi l'acqua e poi ancora Ater al via i lavori di riqualificazione su 202 appartamenti a Fontanelle le ditte appaltatrici hanno 135 giorni per completare l'intervento in tre lotti finanziato dalla regione poi ancora Ludovico ridà la vita a sei persone ha donato gli organi il 23enne di Colle Corvino morto dopo il grave incidente in scooter di dieci giorni fa e spiantati nella notte cuore polmoni fegato corne reni e pancreas parenti e amici distrutti oggi il funerale invasa di messaggi di cordoglio la pagina facebook del padre Vito per sempre nel mio cuore e poi cupola degli appalti no al giudizio immediato il processo un avvocato imitato dai colleghi ha invocato la nullità del decreto e poi a Montesilvano stop alle discariche abusive con il nuovo centro raccolta il sindaco Maragno ha inaugurato a Montesilvano un'area riservata ai rifiuti ingombranti ricordati gli sforzi dell'amministrazione di Montesilvano per una città pulita fototrappole contro i furbetti vediamo il servizio non ci sono più scuse abbandonare i rifiuti non va bene e non conviene con questo slogan il comune di Montesilvano in sinergia con Formula Ambiente e Sapi ha inaugurato questa mattina il centro di raccolta in via IN nella città adriatica alla presenza del sindaco Francesco Maragno dell'assessore all'ambiente Paolo Cilli e di Nicola della Corina responsabile Abruzzo per Formula Ambiente il centro realizzato dalla stessa sorge su un'area di 550 metri quadrati di cui più di 400 di piazzale asfaltato di fianco alla cabina primaria Enel di ATM MT è completamente illuminata e videosorvegliata e sarà possibile conferirvi i rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche rifiuti pericolosi sfalci di verde e potature piccole quantità di inerti a disposizione dell'amministrazione comunale anche due nuovi mezzi ecologici per la pulizia delle strade prossimo impegno per l'amministrazione un centro del riuso dove le persone potranno scambiarsi oggetti per arrivare a conferire in discarica un numero inferiore di materiale Oggi finalmente apriamo il primo centro di raccolta di Montesilvano dove si potranno conferire i rifiuti compresi gli ingombranti e anche i rifiuti da trattare in maniera particolare quindi eliminando sostanzialmente tutti quanti gli alibi per i cittadini scorretti che finora hanno continuato a conferire i rifiuti per strada l'obiettivo è quello intanto di aumentare le percentuali di raccolta differenziata in modo tale da abbattere anche i costi della tariffa ma soprattutto sostenere le politiche ambientali e restituire il massimo decoro alla città Sì oggi c'è molta soddisfazione perché dopo qualche mese di attesa siamo riusciti ad aprire questo centro di raccolta che permetterà ai cittadini di portare in autonomia tutti i rifiuti ingombranti e non di cui si vogliono disfare quando vogliono tutti i giorni tre ore al giorno è possibile portare in maniera gratuita i rifiuti presso questo centro di raccolti invece di abbandonarli vicino ai cassonetti allora questi due mezzi sono due riguardano l'igiene urbana sono dedicati allo spazzamento e sono delle proposte per il futuro noi andiamo dietro a quello che chiede l'amministrazione cioè usare sempre mezzi più green ecologici infatti abbiamo dei mezzi totalmente elettrici per lo spazzamento della parte rivierasca del comune rientriamo e lo facciamo con una notizia non bella perché purtroppo è scomparso l'ex presidente della provincia di Teramo Walter Catarra avevamo visto in precedenza su un titolo di apertura se non sbaglio il centro di Teramo il fatto che Catarra era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo a causa di un'improvvisa complicanza sorta dopo una operazione al cuore purtroppo nella notte appena trascorsa il cuore di Walter Catarra ex presidente della provincia di Teramo e anche sindaco per due mandati della sua notaresco ha smesso di battere aveva 57 anni proseguiamo con le pagine aquilane del messaggero ecco qui scuole metà degli istituti senza indice di vulnerabilità a 40 giorni dalla scadenza della proroga non ci sono ancora dati essenziali per la sicurezza il comitato chiede a gran voce che il liceo classico venga sistemato con velocità nell'ex sede di Optimes dopo la sentenza che di fatto chiuso il classico si rischia un effetto domino per gli altri plessi e poi ancora a centropagina leggiamo corteo della bolla alla fine non cambierà nulla la dama dopo tante polemiche sfiderà con il costume dello scorso anno in basso un mercato con le tipicità regionali all'Aquila si tratta di campagna amica prodotti a chilometro zero vediamo il servizio 20 produttori locali ma anche regionali per offrire ai clienti aquilani qualità ma per favorire anche l'accorciamento della filiera nasce così il primo mercato coperto di campagna amica della provincia dell'Aquila e il terzo d'Abruzzo dopo quello di Pescara e Chieti collocato nel capoluogo di regione nel complesso il quadrante alla torretta in una zona ben servita si riparte anche sotto il profilo agricolo commerciale su una città che ha vissuto senza altro non delle belle situazioni negli ultimi periodi questo mercato sarà aperto il mercoledì il venerdì e il sabato cominceremo con questi tre giorni però abbiamo intenzione di migliorarlo e di strutturarlo ancora meglio però è un punto di partenza assolutamente importante diamo la possibilità economica ai nostri produttori di poter vendere direttamente i loro prodotti agricoli di tutto il territorio ma nello stesso tempo diamo un'opportunità anche ai consumatori e ai cittadini di avere le produzioni locali il mercato conferma il percorso di crescita della rete di campagna amica che punta a valorizzare il prodotto agricolo e la filiera corta rispettando le esigenze dei consumatori più esigenti nel mercato c'è proprio di tutto il mercato coperto non sarà infatti solo un luogo di compravendita ma anche di alta socialità soprattutto in una zona fortemente provata dal terremoto tra chi produce e consuma ma anche per coloro che hanno scelto di restare all'Aquila dopo il sisma e credono nella rinascita del capoluogo di regione con la inaugurazione del mercato di campagna amica qui all'Aquila si dà anche un aspetto sociale perché si dà la possibilità alla gente di rincontrarsi quindi di creare un tessuto sociale che purtroppo da circa dieci anni con degli eventi sismici che sono stati sia nel 2009 che successivamente nel 2017 è mancato queste iniziative si stanno susseguendo sempre di più è un buon segno di ripresa di vitalità è un segno di ripresa e di vitalità ma è anche l'accorciamento della filiera quindi con contenimento di costi per le famiglie e per i cittadini e ora la pagina marsicana del messaggero tribunale festa da Dio per Forgillo nell'aula grande in tanti hanno voluto salutare il presidente quasi sicuramente dalla sezione di Roma arriverà Zaira Secchi in questi sei anni e mezzo ho impiegato tutte le mie forze per cercare di espletare al meglio il compito assegnatomi il giudice prosegue spero che il prossimo futuro mi darà la possibilità di sapere che la struttura venga mantenuta la pagina o meglio le due pagine di Chieti e provincia con lo scontro sul cambio del nome dell'Ateneo Università il cambio di nome innesca polemiche arraffica l'Ateneo diventa dell'Adriatico ma il no è bipartisan ci si sposta verso Pescara il primo cittadino l'importante è investire sulla città stop a inutili battaglie di Campanile poi Febbo di Forza Italia e Marzoli del PD sono contrari anche le associazioni sul piede di guerra e poi ancora in basso il sindaco stoppa i dissidenti i tagli sono inevitabili nel sociale garantiti comunque i servizi essenziali spaccatura Udc gli altri partiti siamo con Di Premio facciamo il punto con questo servizio del Tg6 a Chieti la maggioranza del sindaco Umberto Di Primio rischia di andare in frantumi e di cadere sul voto per il bilancio consuntivo 2017 le divisioni all'interno del centrodestra si sono palesate sulla questione taglia al sociale quattro consiglieri di maggioranza stanno facendo fronte comune sono Diego Costantini della Lega Mario Di Lio dell'Udc Roberto Melideo di Alternativa Popolare e Stefano Rispoli ex forzista passato il gruppo misto le critiche all'operato del primo cittadino riguardano i tagli al sociale da 229 mila euro tagli si è sempre difeso di primio obbligati dal profondo rosso dei conti dell'ente che hanno un buco di una decina di milioni di euro Emiliano Vitale e Maurizio Costa consiglieri di maggioranza al microfono di Gino Di Tizio invocano buonsenso dentro le fila del centrodestra e chiedono un confronto per far rientrare la fronda interna credo che non sia niente di recuperare dobbiamo sederci e fare il punto della situazione perché dobbiamo stabilire dove si è arrivato e cosa ci manca per un programma di fine mandato anche perché il sindaco di prima non potrà ricandidarsi per questioni di legge e dovremmo iniziare a riscrivere quello che sarà il nuovo futuro che si è configurato in questi ultimi anni io sono sempre pronto a qualunque confronto o a qualunque parte sia dalla parte della mia maggioranza sia da parte dell'opposizione conto nelle altre persone di buon senso di buona volontà che ci potremmo presto sedere per me anche oggi stesso e vedere quali sono le emergenze da affrontare subito vedremo vedremo è possibile anche che i quattro consiglieri che oggi si presentano giustamente loro hanno da rivendicare il sociale che anche noi attenzione anche noi che ahimè abbiamo votato il bilancio non siamo favorevoli al taglio sociale però certe volte per delle scelte di bilancio bisogna anche fare delle incongruità nelle votazioni ma tutto ciò secondo me non porta a nessuna diciamo rottura grave acqua c'è solidarietà tra 92 comuni la Sasi prosegue con le chiusure notturne servono a equità rispetto della legalità e sacrifici da parte di chi sta meglio intanto la società guidata dal presidente basterebbe firma un accordo con Acea stop al contenzioso per 5,4 milioni e ora le pagine di terra modello messaggero commercio crisi nera in centro ticket sosta più caro di tutti neanche per i lavori di corso San Giorgio ci fu questo momento fuga verso la costa la popolazione è diminuita dopo il sisma ma c'è anche chi sta registrando progressi poi ancora Monica Carotta le condizioni del meteo e le incertezze politiche hanno pesato di spalla la cronaca ma almeno i genitori completamente ubriaco provvidenziare l'intervento dei vicini di casa della polizia in piena notte ora in carcere poi teatro romano non si farà la copertura a vertice tecnico con il sindaco e le associazioni i fondi per il recupero arriveranno a Giulianova nessuno avvisò del guasto del faro mentre il sostituto procuratore Medori ha avviato un'inchiesta per omissioni dati d'ufficio si fa strada una clamorosa voce la era luce che cura l'illuminazione cittadina doveva essere informata attraverso una PEC che non sarebbe mai arrivata lasciamo il messaggero andiamo a sfogliare le pagine della città siamo a pagina 5 con le parole del neosindaco Gian Guido D'Alberto che dice no alla copertura del teatro romano il sindaco incontra il progettista Bellomo e ribadisce che Teramo ha già scelto l'idea di Carbonara tre punti molto chiari niente copertura del monumento rispetto dei tempi massima partecipazione da parte dei cittadini e poi ancora la cronaca vicino di casa salva i genitori dal figlio drogato li prende a calci pugni e morsi costringendoli a barricarsi in camera da letto poi aggredisce un poliziotto arrestato per lesioni minacce resistenza pubblica ufficiale la madre finisce anche in ospedale e poi il bilancio dopo la chiusura della coppa Interamnia Montauti apre al cambiamento archiviata la 46esima edizione il patron fa il bilancio dell'ennesimo miracolo e di ciò che invece va cambiato pagina 9 dichiarazioni oscene sulle educatrici scolastiche la candidata forzista di Giuseppe non accetta la critica di Teramo 3.0 sul sistema delle cooperative la tesi opposta all'albo unico e la scelta da parte dei familiari senza criteri sarebbero la garanzia per favoritismi le notizie dalla provincia isola lavori in arrivo anche per le scuole medie parere positivo dalla commissione per la ricostruzione post sisma affidamento previsto per fine mese a Martinsicuro ladri in azione alla rimessa comunale portati via un furgone e attrezzature per migliaia di euro e poi a Giulianova oggi la verità sull'amianto all'asilo il sindaco incontra le famiglie sui lavori alla struttura di via Mattarella la questione è stata sollevata nei giorni scorsi dal consigliere di opposizione Franco Arboretti a Roseto invece ecco qui due passi avanti per il portricciolo incontro in provincia per i lavori del braccio al mare per gli argini si lavora per far inserire l'ex baroni tra i siti inquinati per consentirne la bonifica Parco Marino dopo i picnic in Pineta anche le ruspe in spiaggia nuova denuncia del WWF ambiente e vita va all'attacco anche sull'accessibilità negata ai disabili il comune di Pineto è pronto ad assumere due vigili urbani in più per evitare il ripetersi di comportamenti abusivi in Pineta la pagina dello sport doppio squillo Teramo di Renzo e Zenuni ufficiali gli acquisti la punta voglio misurarmi in serie C il mediano qui con i consigli di due ex nelle prossime ore dovrebbero essere definiti anche gli arrivi dell'esterno Giacomo Zecca del Sassuolo e di Roberto Ragneri di proprietà dell'Atalanta poi si valuterà un portiere e per il basket Teramo ha il suo metronomo preso il play Gianluca Marchetti andiamo ora con le prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi ovviamente l'argomento principale sempre l'acquisto di Cristiano Ronaldo della Juventus che va in parte anche oscurare il mondiale ci vediamo lunedì con la presentazione show di CR7 fissato il Ronaldo Day all'Allianz come Hollywood poi sotto la testata Croazia da sballo Perisic Mangiukic gol storici finale domenica contro la Francia poi Corriere dello sport l'anticristiano Ancerotti subito l'opposto del fenomeno le sue parole caricano Napoli la Juve non è il potere noi non siamo qui per pettinare le bambole non temiamo CR7 partiamo per vincere frattura Meret fuori due mesi e poi sotto la testata finale all'italiana Perisic e Mangiukic stendono l'Inghilterra domenica la Croazia sfiderà la Francia di Matuidi Pogba e Deschamps a Mosca ci saremo anche noi e poi ancora tutto sport con questa prima pagina ti vogliamo così tifosi in delirio CR7 Dacci la Champions torniamo ai quotidiani locali lo facciamo attraverso le pagine del centro il Pescara prova a chiudere per Eguelfi oltre a Capone Melegoni e Monachello il Defino tratta con l'Atalanta anche il Terzino preso russo verrà girato al Pineto e poi le parole di Pilon ottimo clima nello spogliatoio il tecnico c'è entusiasmo ed è un aspetto positivo i ragazzi sono concentrati Brugman Carico ci stiamo allenando bene nonostante il caldo la squadra lavora con grande impegno parole che abbiamo riportato ieri nel TG6 attraverso questo servizio dedicato alla consegna di mountain bike alla Pescara Calcio da parte della Rabottini di Cicli Sport quest'oggi Luciano Rabottini è il padrone di casa per questo accordo con la Pescara Calcio nella fornitura di mountain bike che saranno molto utili per la Pescara Calcio nel corso del ritiro precampionato sì con piacere abbiamo fatto questo accordo commerciale che possa far piacere sia alla Pescara Calcio ma soprattutto al mio punto vendita qui a Marina di Città Sant'Angelo questo è un accordo che nasce con la Scott Italia anche la Scott ha sposato alla grande questa iniziativa perché giustamente crede in questa società di calcio e soprattutto io che sono locale perché no dare biciclette a ragazzi e a preparatori che verranno utilizzati soprattutto nel periodo della preparazione Gaston Brugman abbiamo scoperto una nuova vena sportiva per quanto ti riguarda sì sì siamo qua provando le biciclette veramente non sono abituato ad andare in bici ma è una bella cosa poi magari vi aiuterà per lo svolgimento del vostro ritiro sì sicuramente sicuramente serve la gente che lo fa dice che è una passione che la prima volta che sali poi diventi amato dalle vici senti ma quando finirei di giocare a calcio ti dedicherai al ciclismo ti abbiamo sentito prima no no ho provato una volta quando ero infortunato a fare la vici di strada e mi è piaciuto perché vedi un po' tutto il il paesaggio diciamo che è una bella cosa e anche fai sport che è importante per la vita quando si inizia a faticare quindi a lavorare come nel caso tuo nel caso dei tuoi compagni si dice si inizia a pedalare è proprio il caso di dirlo è infatti quello c'è iniziato il ritiro siamo contenti stiamo facendo bene nonostante sia due giorni di corsa di fatica stiamo preparando bene clima com'è? va bene fa caldo adesso baby pillone quando si dice si inizia a pedalare è qui in tutti i sensi direi proprio di sì le miglior biciclette penso di Pescara e anche d'Italia forse perciò è una cosa in continua evoluzione anche la bicicletta elettrica che è una novità insomma l'ho provata insomma posso correre in bicicletta anch'io l'abbiamo vista sfrecciare no? sì sì è divertente però insomma è uno sport molto faticoso perciò come una bicicletta elettrica tutti possono ambire e andare in bicicletta senta come sfrutterete il mezzo della bicicletta nel corso del ritiro penso a Palena no soprattutto per chi ha problemi ai ginocchi che deve rinforzare il muscolo il quadricipio la bicicletta potrebbe essere un lavoro interessante specialmente in salita il clima com'è in questi primi giorni di ritiro? direi ottimo si lavora bene i ragazzi lavorano benissimo tutti sono concentrati c'è un bel ambiente che è l'aspetto più positivo andiamo a chiudere con il messaggero Abruzzo le pagine dello sport Leone punta su Monachello il Perugia prende Melchiori e così libera l'attaccante ex lanciano Pescara sul baby Scamacca che però è conteso anche dal Verona di Grosso depositato il contratto di Nicola Russo ex attaccante dell'Aquila tra le altre cose in Serie D si profila un prestito in Lega Pro a proposito di Lega Pro e di Serie C ecco le parole del nuovo attaccante del Teramo di Renzo Teramo mi manda la Padula il nuovo attaccante ha lo stesso agente dell'ex Biancorosso oggi i sì di Zecca e Zenuni Tulli verso l'Arezzo poi ancora sul fronte Serie D l'Aquila Ius si fa da parte resta alla finestra in attesa degli sviluppi dopo la presa di posizione dei costruttori è un atto dovuto dice Ius per consentire la massima trasparenza le eventuali nuove trattative e poi sempre per la Serie D vastese De Meio ok i Zotti trainer dell'Alba i Biancorossi lo hanno preso dalla primavera del Parma Casimirri al Penne chiudiamo qui questa edizione odierna di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari i TG6 delle 14 delle 19 e delle ore 23 e poi vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo il nostro settimanale dedicato al ciclismo condotto da Jacopo Forcella con la presenza del lidatore Luciano Rabottini grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata buona giornata grazie a tutti